Peperoni, peperoni, tre piantini di avocado, una piccolina di basilico, peperoncino e peperoncino ancora e poi basilico a volontà, qui c'è un'altra pianta di paprika con alcune di pomodori intorno, qui ci sono piantini di pomodori, qui c'è un'altra paprika, 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 paprika 3 e lì c'è la fuzzimenta, aspetta che te la inquadri, la vedi? La fuzzimenta di pomodori, e ora ci vediamo la partita dell'Italia e speriamo che il galle e le buschi, ciao, guarda che fumo!